Ciao a tutti, oggi farò un tutorial sul trucco di San Valentino. Allora, inizio con ovviamente il fondotinta e uso questo tipo di tonalità e vado ad applicarlo con il pennello su tutto il viso e prendo anche un pochettino al collo. Ok, dopo aver spolmato bene il fondotinta, vado a prendere la cipria bianca. La cipria bianca, che la metto ovviamente su tutto il viso, è un prep prime, sarebbe un prefissaggio. Lo uso sia quando metto il fondotinta che quando metto la terra. Prendo giusto un pochino, perché non ne serve molto, e vado a spalmarla su tutto il viso, giusto un pochino. Vado a spalmarla su tutto il viso insieme al collo, partendo dalla fronte. Ok, dopo aver spalmato bene la cipria bianca, questa è la terra illuminante. E vado ovviamente a metterla sempre sul viso. La quantità, questa. Togliere l'eccesso. Prima di metterla. Dopo aver applicato bene la terra, riprendo con la stessa quantità la mia cipria bianca. E vado a metterla ovviamente su tutto il viso. In questo caso io vado un po' così, perché tanto è uguale. Inizierò a fare la mia sfumatura sugli occhi. Ok. Tutto. Prendo questo pennellino qui, che è piatto. E prendo questo azzurrino qua. E lo metto solo sulla palpedra. Quantità poca. Toggo l'eccesso. E inizio ad applicarla sulla palpedra. E vado giù sull'altra. Da di qua. Ok. Adesso prendo il bianco. Scusate. E vado a metterlo nello spazio dove ho lasciato proprio di fianco qui. Ok. Adesso prenderò questo pennello qui. Ok. Poi prendo questo qua che con questo punto pennellino qui vado a spalmarlo ovviamente sulla palpebra. Questo qua è un pigmento color acqua. Verde acqua, scusatemi. E poi vado anche sull'altro occhio. Ok. Adesso ci vedo il mio pigmento. Poi prendo questo viola qua con questo pennello qui e vado a metterlo sopra. Quantità poca. mi raccomando mi raccomando tirate sempre bene l'occhio e poi prendo questo pennellino qui che è uno sfumino e vado a sfumarlo un po'. Prenderò sempre nello stesso questo qua sempre con lo stesso sfumino tavolo l'eccesso e con questo movimento e con il pennellino qui andrò ad applicare il nero giusto per darmi una base e poi dopo lo sfumerò. Questo nero è glitterato. e poi con lo sfumino che ho usato in precedenza vado a sfumarlo. Prendo ancora il bianco perché lo metterò qua sopra sempre lo stesso bianco che ho usato prima con il pennellino quello piccolino che ho usato per mettere il nero. e prendo in quantità giusta e vado a applicarlo su tutti e due gli occhi. ok una titta nera che è questa qui e vado ad applicarla sopra e dentro nell'occhio. mi raccomando tirate bene l'occhio così riuscite a fare la riga giusta. e poi vado ad applicare e poi vado ad applicare come infine il mio rimel. allora io uso questo che ha questo tipo di setola e vado ad applicarlo sulle ciglia facendo questo movimento qui apri chiudi ok poi prendo il fissaggio nel fondo della rimel e faccio questo movimento qui giusto un pochino perché questo qua non serve molto ok dopo aver concluso gli occhi vado a prendere questo bianco qua che lo uso come punto luce usando il dito ne prendo un pochino e vado a metterlo qui che poi in seguito dopo che ho finito questo metterò il mio blush dopo aver applicato il mio punto luce vado ad applicare il mio blush ovviamente sotto zigomo e per chi volesse un trucco in più io andrò come nel mio caso io andrò a realizzare un piccolo cuore ok poi prenderò questo glitter con il pennello apposta e vado a mettere l'interno nel cuoricino ok dopo aver messo questo viola andrò a applicare questo verde acqua non andrò a applicare nulla sulle labbra perché ovviamente ho accentuato gli occhi spero che questo tutorial vi sia piaciuto e ci rivedremo prossimamente con un altro video con un prossimo tutorial ciao a tutte e un bacio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti